26, 27 e 28 ottobre a Urbino appuntamento con il cinema e tavole rotonde abbinate. Di che cosa si tratta? Si, si tratta appunto di una rassegna cinematografica sui luoghi, sulla narrazione dei luoghi nel cinema. Prende nome appunto la rassegna, si chiama l'intervallo tra le cose. Ci saranno quattro proiezioni, sono previste quattro proiezioni. La prima sera apriremo con un film molto importante di questo regista italiano, vincitore dell'ultimo festival di Torino, La Bocca del Lupo di Pietro Marcello, vincitore anche di importanti premi a Berlino. La seconda serata vedrà invece la proiezione di un giovane regista di Urbino, Andrea Laquidara, e ci sarà la proiezione del blef, un film, e anche di un video documentario realizzato con il contributo del professor Salvatore Ritrovato sulla Bosnia. Il secondo giorno invece al mattino alle dieci e mezza ci sarà la proiezione di un documentario della dottoressa Zaccaria e di Daniele Blasi, dal nome Altar, mentre l'ultima proiezione alla sera, alle 21, sarà di Alina Marazzi per sempre. Ricordiamo dove si svolgono le proiezioni e gli orari. Dunque, le tre proiezioni serali saranno alle 21 all'Aula Cinema del Magistero Nuovo, quello al mattino sempre all'Aula Cinema del Nuovo Magistero, però alle 10 e 30. Le tavole rotonde saranno appunto due, la prima il 27, mercoledì 27 alle ore 17, sarà una tavola rotonda con i critici di cinema, e verranno la partecipazione del professor Montani, del professor Ciccotti, professor De Santi, la professoressa Calanchi, e poi ci sarà il comitato scientifico appunto formato dal professor Ritrovato, professor Danese, Alessio Torino, Michele Luccarini e Andrea Laquidara. La seconda invece, il secondo incontro, che si terrà appunto giovedì 28 alle ore 16, sempre alla sala del Maniscalco, avverrà invece con gli autori delle proiezioni. Ricordo che la rassegna è realizzata appunto dall'Associazione della Ginestra, dal Comune di Urbino, con il patrocinio dell'Università e con il contributo della Banca delle Marche.